Entro Ferragosto potrebbe essere ultimato lo sgombero degli ultimi alloggi del Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli di Pescara, con il trasferimento degli aventi diritto nelle case disponibili contestualmente individuate dall'Ater. Poi, una volta approvato il progetto in Consiglio Comunale, si potrà andare a gara e iniziare con le opere di demolizione. È quanto dichiarato dal governatore Marco Marsilio, che ieri ha effettuato un sopralluogo al Ferro di Cavallo insieme al sindaco di Pescara, Carlo Masci, e ad altri amministratori locali. L'obiettivo è realizzare alloggi degnitosi in edilizia convenzionata, dichiarato il presidente Marsilio, parlando dell'abbattimento dei palazzi attenzionati. È un impegno che ci eravamo assunti sin dall'inizio del mandato. Bisogna intervenire in maniera radicale su certi buboni, che sono la triste eredità di una stagione passata e che ha lasciato non solo a Pescara, ma in troppe città d'Italia, periferie invivibili, figlie della follia collettivista, di una ideologia malata che ha prodotto danni e soprattutto ha reso impossibile la vita alla povera gente. Noi costruiremo case più moderne, più funzionali, più sicure, restituiremo dignità ai cittadini delle periferie e faremo un'opera di risanamento come mai si era vista in questa città. Pensate che ci sono dei palazzi in cui per entrare e per salire le scale bisogna avere la protezione della forza pubblica dall'idea dello stato di degrado, di abbandono drammatico in cui era arrivato il territorio. Per questo insieme al sindaco abbiamo preso questa decisione forte di intervenire in maniera radicale, come stiamo facendo anche in altre zone, la demolizione dei palazzi di Pialaco di Borgiano che non verranno ricostruiti, quindi diradiamo anche la presenza per evitare le concentrazioni ghetto. Anche qui c'è chi polemizza sul fatto che vengano ricostruiti alloggi, sono meno della metà di quelli che oggi sono presenti all'interno di un quartiere che non sarà monofunzionale e non lo resterà neanche perché poi la proposta di non fare nemmeno alloggi trasformerebbe comunque questa zona in un quartiere monofunzionale. Oggi sono solo residenze, quindi quartiere dormitorio, domani sarebbe soltanto servizi e quindi un quartiere che a una certa ora si spengono le luci e rimane deserto, potete immaginare nel contesto urbano che cosa potrebbe accadere. Invece fare un quartiere con un mix funzionale di servizi, di residenze, di case moderne e efficienti con i balconi, non gli alveari che sono visti fino ad oggi nelle case popolari fa davvero la differenza.